Buongiorno, con questo tutorial si illustrano le modalità con cui presentare le osservazioni al piano strutturale intercomunale dei comuni di Capannori, Alto Pascio, Porcari e Villa Basilica. Sul sito dedicato progettiamolapiana.it PSI adozione 2023 è possibile consultare tutti gli elaborati di piano in formato PDF e cliccando sul collegamento J-City.gov sarà possibile aprire la pagina principale del portale dedicato per la registrazione delle osservazioni. Le osservazioni si distinguono in due tipologie che rispettivamente sono quelle riferite al piano strutturale intercomunale PSI e quelle riferite alla valutazione ambientale strategica BAS. Sarà possibile in questa fase selezionare a quale delle due tipologie fare richiesta. Una volta selezionato il tipo di istanza da presentare e ipotizzando di presentare un'osservazione al PSI si deve cliccare su Accedi ai servizi per effettuare l'accesso al portale tramite credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi CNS. Successivamente si clicca su Avvia istanza per dare avvio alla procedura. Tramite il procedimento guidato sarà necessario compilare tutti i campi. Come primo passaggio è necessario selezionare a quale dei quattro comuni fare osservazione e nel caso si è un'osservazione generica è possibile selezionare nessun comune specifico. Ipotizzando di procedere per una osservazione al comune di Capannori si clicca su Prosegui. Nella successiva pagina il modulo risulterà parzialmente compilato con i dati dell'utente che ha fatto accesso al portale con SPID o CNS. Sarà poi necessario specificare se l'utente è il titolare della richiesta oppure un procuratore delegato e in questo secondo caso allegare successivamente la delega e copia del documento di identità del richiedente. Nel modulo degli intestatari andranno inseriti i dati del richiedente o dei richiedenti dell'osservazione. Per poter andare avanti sarà necessario compilare tutti i campi obbligatori e cliccare su Prosegui dopo ciascun passaggio. Nel campo Ubicazioni può essere inserito l'indirizzo dell'area o della zona oggetto di osservazione. Successivamente possono essere inseriti specifici riferimenti catastali. Nella maschera dedicata ai dati della richiesta potrà essere data maggiore specificità di ciò che si vuole osservare ad esempio se l'osservazione ha carattere puntuale o generale a quale sezione del piano si riferisce e il contenuto e motivazione dell'osservazione. Nella sezione Dichiarazione allegati potranno essere indicati gli allegati che si intendono presentare. Una volta dato il consenso per la privacy sarà possibile procedere nella sezione dedicata al caricamento degli allegati. Gli allegati possono essere presentati sia seguendo l'elenco guidato ma nel caso di necessità possono essere aggiunti cliccando su Aggiungi nuovo allegato. A questo punto sarà possibile prendere visione del modulo dell'istanza cliccando su Visualizza. Spuntata la presa a visione della modulistica si apre il riepilogo dell'istanza. Cliccando nella parte finale su Concludi sarà possibile terminare la procedura ed inoltrare l'osservazione.